Fabio Quartararo, Alecce Spargarò, Francesco Pecco Bagnaia. Sono questi tre piloti ancora in lotta per il titolo mondiale, almeno secondo me. La classifica dice che Fabio Quartararo ha 22 punti di vantaggio su Alecce Spargarò e 49 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia. Ricordiamo che alla fine del campionato mancano otto gare, quindi 200 punti da assegnare. Vediamo nel dettaglio. Fabio Quartararo guida la classifica. Secondo me è ancora oggi favorito al titolo mondiale, anche se sono molti gli aspetti contro il pilota della Yamaha. Intanto vediamo gli aspetti positivi. Gli aspetti positivi sono sicuramente i punti di vantaggio, come detto 22 su Alecce Spargarò, 49 su Pecco Bagnaia. Non sono pochi, non sono tantissimi, ma sono comunque un consistente vantaggio da poter amministrare. Il secondo aspetto a vantaggio del pilota della Yamaha è la mentalità vincente di Fabio Quartararo. Fabio ha dimostrato in questi due anni, ma anche prima di avere la mentalità giusta per arrivare al titolo mondiale, ha già vinto un titolo mondiale alla MotoGP, sa gestire gli aspetti, i momenti negativi durante la stagione. Quindi sotto questo punto di vista io credo che lui abbia qualcosa in più dei suoi avversari. Però cosa ha in meno dei suoi avversari? Sicuramente la Moto, delle tre Moto che si stanno giocando il titolo mondiale, Yamaha, Aprilia e Ducati, rispettando sempre l'ordine della classifica piloti, sicuramente Fabio Quartararo è quello messo peggio. È sicuramente svantaggiato dagli altri. Ci sono piste come la prossima in Austria, dove potrebbe addirittura arrivare fuori dei 10 ipoteticamente, ma anche altre piste che sono contro la Yamaha. Quindi è un aspetto molto molto importante e molto negativo per Fabio. Inoltre lui è solo contro tutti, non ha nessuno che gli può dare una mano, perché abbiamo visto che Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso, fin quando correrà e Darren Binder non sono certo in grado di togliere punti ai suoi avversari. Quindi è solo contro tutti. In ogni caso per me rimane il favorito. Per me ha il 40% di possibilità di arrivare al titolo mondiale. Alecce Spargaro è secondo in classifica con un'Aprilia molto competitiva. Quali sono i punti forti di Alecce Spargaro? Allora, secondo me il primo, il fondamentale, è che ha l'occasione della vita. Alecce Spargaro non si è mai trovato in questa situazione, ha una costanza di rendimento superiore a tutti, è l'unico pilota che è sempre arrivato al traguardo conquistando punti, quindi ha un'occasione che può dargli qualcosa in più. Io sono sicuro che a livello psicologico lui può trarre grande beneficio da questa occasione. Poi ha una moto molto competitiva. L'Aprilia ha dimostrato di essere veloce e consistente su tutti i tracciati. Quindi è sicuramente un aspetto da tenere in considerazione. A suo vantaggio anche il compagno di squadra. Maverick Vignales sta cominciando ad andare fortissimo con questa moto. Due podi consecutivi. È vero, uno dice potrebbe arrivare davanti, quindi togli i punti, ma io credo che Maverick Vignales è disposto ad aiutare il compagno di squadra. Quindi questo è un punto a favore. Contro Alecce e Spargaro c'è la poca abitudine a lottare per queste posizioni. Adesso comincia a diventare pesante la situazione, i punti si fanno pesanti. Potrebbe contare questo aspetto. Lui non ha mai vinto niente, ha vinto un Gran Premio in MotoGP. Ecco, questo è un aspetto sicuramente negativo. E l'altro aspetto negativo è che comunque lui ha vinto poco quest'anno. Una sola vittoria contro le tre di Quartararo e le quattro di Bagnaia. Nonostante sia stato sempre molto competitivo, comunque sembra in gara avere meno velocità degli altri. Questo è secondo me l'aspetto negativo. Per me è quello che ha meno possibilità di tutti. 25% di possibilità. Al terzo posto in classifica generale è Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia che ha vinto due gare consecutive, quindi è in grandissima forma. Ecco, Bagnaia è naturalmente quello messo peggio nel punteggio. 49 punti da recuperare. Ma lui ha una velocità pazzesca. Lo ha dimostrato l'anno scorso, lo ha dimostrato quest'anno. A livello di velocità è nettamente il più forte. Ha una moto super competitiva, non c'è bisogno di specificarlo, sappiamo benissimo quanto sia veloce la Ducati. E ha la possibilità di fare un gioco di squadra. Jack Miller è sicuramente uno disposto a fare il gioco di squadra, anche se l'anno prossimo correrà con la KTM. Ma anche altri piloti Ducati potrebbero dargli una mano. Quindi, sotto questo aspetto, lui ha secondo me un vantaggio. I punti deboli sono i punti da recuperare, scusate il gioco di parole, è sicuramente uno svantaggio. Oltretutto deve recuperarli su due piloti, non su uno solo. Quindi, non solo i 49 punti che lo separano da Quartalano, ma sono anche i 27 che lo separano da Leisce e Spargarò. Recuperare così tanti punti su due piloti non è sicuramente facile. E poi, quello che è mancato fino adesso a Pecco Bagnaia, è mancato anche l'anno scorso, è la costanza di rendimento. Lui o vince o arriva fuori dai 10. Ecco, questo non deve più succedere per puntare al titolo mondiale. Secondo me, lui ha il 35% di possibilità di arrivare al titolo. Questa è la notizia in prima fila di oggi. Io sono lo ZAM, vorrei sapere la vostra opinione.